Sì, quest'anno siamo tornati alla tradizione, a un torneo con il livello tecnico leggermente più basso ma con squadre più attaccate al trofeo della Madonna del Carmine perché ci sono più squadre di Riccia e dei paesi vicinissimi come Yelzi, Gambatesa, Cerce Maggiore, Giocatore di Tufara, Campo di Peta, tutti molto vicini a Riccia e che hanno sempre partecipato a questo torneo quindi molto attaccati a vincere il trofeo. Infatti diciamo siete tornati agli origini, questo torneo ha riavvicinato tra l'altro anche tantissimi ragazzi, tantissimi anche over possiamo dire, comunque l'abbiamo visti in campo che hanno il piacere comunque di vivere una serata riccesa. Sì, si sono venuti a creare delle squadre composte sia da giovanissimi ragazzi del 2000-2001 che hanno partecipato ai campionati juniors e sia, come dicevi tu prima, gli over, cioè giocatori che magari giocano nelle categorie inferiori, seconda categoria che però hanno sempre partecipato a questo torneo anche quando era diciamo ai fasti degli anni migliori e poiché sono attaccati hanno continuato grazie a questa nuova formula. Una organizzazione riccesa a 360 gradi, tu insieme alla tua famiglia ma tanti giovani in campo, abbiamo detto le squadre in campo, quest'anno anche il bar diciamo affidato a dei giovani del posto. Sì, quest'anno abbiamo cambiato, come dici tu, il torneo, la formula e abbiamo dato fiducia a un gruppo di giovani riccesi, sono ragazzi ventenni, molto disponibili, molto capaci, competenti e questo diciamo ha riportato a quella freschezza di questo torneo e infatti la sera vengono molti giovani, è un incontro tra ragazzi ed è divertente anche per noi. Abbiamo parlato di come è andato questo torneo però domani si scende in campo per le finali quindi ricordiamo anche qualche appuntamento, qualche orario. Sì, domani sarà la finalissima, alle 17 ci sarà la prima finale del torneo amatori e successivamente ci sarà la Super Cup perché comunque abbiamo voluto mantenere comunque una partita composta da calciatori che lo fanno quasi per mestiere anche per vedere un po' di calcio spettacolo e ci sarà tutta l'amministrazione comunale, il sindaco di Riccia, Pietro Testa, saranno stati invitati anche gli assessori regionali, i rappresentanti dei vari enti, del gruppo arbitri molisani, dell'Axi e tanti altri ospiti. Per la finalissima quest'anno, poiché è il venticinquesimo anno, un quarto di secolo, ci saranno un po' di sorprese che vedrete soltanto se verrete. Visto che mi hai dato l'assist, anche il tuo nuovo ruolo di consigliere con delega allo sport, parliamo un attimo dell'impiantistica sportiva qui di Riccia un campo in sintetico, una palestra al chiuso comunque molto funzionale, Riccia può fare sport? Sì, sono orgoglioso di aver ricevuto questo incarico da parte del mio sindaco e come dicevi tu Riccia ha molte strutture, oltre al campo Poce abbiamo il palazzetto P4 e stiamo realizzando la colina del benessere, ossia dove verranno dei campi da bocce al chiuso, dei campi da ping pong, dei campi da tennis e da basket. Questo perché Riccia è stata sempre amante degli sport, per questo stiamo anche organizzando di cercare nel corso degli anni di creare una polisportiva affinché si riesca ad unire tutti gli sport maggiori di squadra.